Questi italiani che ci prendono tutto, tutti i posti, ciarlatani, caraglie, vogliono soltanto soffocare la musica tedesca. Che vi hanno fatto, babbo? Che vi hanno fatto? Niente, 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 non mi ascoltare. È un mistero. Che mistero? Che la musica italiana possa essere così bella nonostante sia fatta dagli italiani. La scuola napoletana ha delle radici ben profonde e affonda le sue radici proprio nella Magna Grecia. Non dimentichiamo che proprio qui, nella penisola italica, a Siracusa, a Pitagora teorizzerà il sistema musicale che poi ancora oggi utilizziamo. E non dimentichiamo che poi è proprio a Napoli con Carlo D'Angio che viene rappresentata la prima opera in musica a Largo Castello, quindi fuori dal maschio Angioino, le gioie de Robin Marion viene eseguita come opera in musica per la prima volta e scritta da un compositore fiammingo che viveva a Napoli, perché vivevano tutti a Napoli, che si chiamava Adam de la Halla. Ma La Gloria, per cui è importantissimo, Ferdinando I d'Aragona fonda la prima scuola di musica mai esistita, quindi è un altro primato. Assolutamente la memoria è la cosa più importante. La memoria significa riconquistare il nostro orgoglio di appartenenza. Orwell diceva che chi controlla il passato controlla il presente, chi controlla il presente controlla il futuro. Se noi non vogliamo farci manipolare più di quello che stanno facendo, probabilmente dobbiamo risvegliare le nostre memorie, dobbiamo risvegliare il nostro orgoglio di appartenenza e sapere che a Napoli ci sono state le prime coreografie nel Settecento con il coreografo Magri, che abbiamo addirittura un bellissimo trattato sulle danze settecentischi, conservato dalla Biblioteca Nazionale. Parlando di Andrea Lucchesi, qua parliamo di appropriazione in debita. Ossia, questo musicista importantissimo, tanto da essere maestro di cappella a Bonn, scrive una quantità enorme di musica per quella cappella. All'epoca c'era la prassi dell'anonimo, per cui cosa succede? Succede che questa musica rimane anonima o viene intestata ad altri musicisti che la facevano girare, era una consuetudine dell'epoca. Molte di queste sinfonie giravano anche a nome di Mozart e di Haydn, ma non è che Mozart le ha copiate, Mozart le utilizzava e le ha intestate a lui soltanto quattro anni dopo la data in cui il notaio Fries alla morte di Maximilian Friedrich indica che quelle musiche appartenevano ad Andrea Lucchesi nel fondo di Bonn, della cappella di Bonn. Io faccio un'analisi ben dettagliata di Mozart che potrete trovare sul libro La musica del sole, edito da Controcorrente, parlando di come si crea un mito, un falso mito, come quello di Mozart che era un musicista molto bravo, ma come tanti altri, soprattutto come i duecento e passa musicisti di scuola napoletana. Sia Haydn che per imparare un po' di musica va da Niccolò Porpora a fargli da servitore, sia Mozart che per imparare un po' di musica, non certo la impara dal padre, che era un mediocre violinista, ma viene in Italia, studia con padre Martini e attinge molto dalla scuola napoletana. Ho Beethoven che permane dieci anni nella cappella di Bonn facendo l'organista di Andrea Lucchesi, quindi Andrea Lucchesi è stato il maestro di Beethoven. Questa la storia l'anno scorso perché tutti questi tre personaggi li ho ritrovati negli elenchi degli Illuminati di Baviera, quindi sono tutte e tre Illuminati di Baviera, siccome la loro strategia era quella di buttare fuori dalle corti europee tutti i maestri italiani, quando dico italiani parlo di Napoli, ma tutti i maestri italiani vengono buttati fuori dalle corti europee grazie ad un progetto che doveva vedere nella triade dei viennesi Haydn, Mozart e Beethoven la creazione della musica classica, quindi questa musica che nasce all'improvviso con questi tre geni assoluti che non hanno scuola. Grazie a tutti.